Vi voglio ricordare così, vi voglio ricordare così in questi giorni dopo countdown, vi voglio ricordare come un momento in cui siamo in amaca, un momento in cui ci sono le nuvole, gli alberi, un momento in cui siamo leggeri, in cui tutto questo che c'è stato non c'è più, se n'è andato. E noi siamo nell'oscillazione, nell'operenne oscillazione del capire e del divenire, perché solo oscillando si può capire il presente, solo cambiando si può vivere. La morte è essere fermi e niente, speriamo bene, speriamo che tutto sia nella felicità per tutti noi. Grazie. Grazie. Grazie.